buongiorno pescatori e benvenuti in questo nuovo video a mosca quest'oggi andrò a utilizzare degli streamer che ho costruito io l'idea era quella di pescare fare una pescatina still water tranquilla fili fini eschette piccole ma la pratica ha deciso pesce super apatico e quindi mi sono andato alle armi cattive con i miei streamer ozzi alla ricerca di grosse fario dunque mi raccomando ragazzi lasciate like condividetevi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti superiamo i 100 like per questo video mi raccomando non fate quelli del braccino corto inviate il video a tutti i vostri amici passate dai miei social guardate qua sotto in descrizione che avevo messo dei link interessanti di prodotti che uso dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video iscriviti al canale allora proviamo questo eccola guardano come si muove guardano come si muove no no un pesce rosso guarda da solo solo il recupero lineare guarda come vibra un po' copiata guarda che recupero lineare come vibra bello credi fate flash lunghi belli ho messo una cos'è marabù o le ho messo un po' di flash una piumetta lunga rossa e questo è solo bucktail track questo è la chiamata la castiga strike proviamo la moppettina oh guarda subito che scende ottimo che scende che scende ottimo che scende che scende a presto presa mi son distratto calma ovetto nero fatto da me piombato bel pesciolino finale dello 020 comunque ci sono dei signori pesci coda sink 3 è bella bella tortina allora eccola qua eccola qua prima trota stiamo senza ardiglione ovettino fatto da me nero e andiamo con il rilascio presa perfetta al lato della bocca vai non 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 è ce l'ho ce l'ho bella devo tirare la via dall'albero bella bella fario col mio streamer a forma di gamberetto bella lei bella eccola qua via il rilascio ci sembrano rami s'appendolo basta no porca troia ciao bella fario oplà questa è bellissima andiamo col rilascio non si voleva andare vuole andarsene ciao Grazie a tutti.